Premi a milioni, quale regalo farebbe, quale regalo ha fatto e quale meriterebbe, non lo so. Guardi, faremo sicuramente un regalo di gruppo a cui parteciperò. Io personalmente non si anticipa a me regalo. Quello di gruppo sì, ma non me ne occupo di lui. Ma è bello, è un bel regalo di gruppo. Il suo è un libro, no? Oggi è il compleanno della Premier Meloni. Gli avete fatto un regalo, Forza Italia? Il regalo è quello di lavorare costantemente per il governo, di cui lei è Premier, quindi credo che lei sia fortemente appagata da questa realtà. Buonasera, senatore, una domanda è un attimo solo. Ma avete preparato un regalo per oggi per la Premier, per il compleanno? Di solito si fanno sorprese. Ma c'è qualcuno che ci ha detto che l'avete fatto collettivo di partito? Come? Avete fatto un regalo collettivo? Sono sorprese, non è che si va a dire i dettagli. Quota? Una quota irrisoria, una quota di partecipazione. Quota ragionevolissima. Quota ragionevolissima. Diversi sono detto così poco. Quindi sorpresa, non diciamo una sorpresa. È la sorpresa. Lo consigliate stasera? Può darsi che ci sia, può darsi che non ci sia. Ok. Domani lo scopriremo? Eh beh sì, domani sì. Il compleanno sarebbe oggi però, per ragioni ovvie. Grazie. Grazie.